Ciao a tutti caccini e benvenuti in questo mio nuovo video! Oggi sono qua perchè voglio tornare a portare Five Nights at Freddy's Help Wanted Sendo che è uscito da poco il film di FNAF ed è stato veramente figo Mi è venuta un po' la nostalgia di questo gioco Perciò, perchè non continuare una serie che ho portato ormai 8 mesi fa e che non ho mai concluso Ebbene questo qua è il continuo di questa serie Ho appena finito di registrare il video, spero vi piaccia E noi ci vediamo in partita Eccoci qui caccini tornati su Five Nights at Freddy's Help Wanted Perciò ci eravamo lasciati con FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 ovviamente E tutti questi, perciò direi di cominciare molto semplicemente da Five Nights at Freddy's 1 Vediamo se mi ricordo ancora come si gioca Le solite cose, primi bottoni e sopravvivi fino alle 6 del mattino Ed eccoci qui, guardate i nostri amici animatronics che belli che sono Poi abbiamo il Fongai che è sempre un rompiscatolo assurdo L'asilo di Freddy Un classico, questo si deve sempre toccare Allora qua abbiamo Foxy che in questa notte si dovrebbe muovere Ecco si è già mossa Chica Ciao bellissima, mi sei mancata proprio tanto Guardati lì che bel faccione Bonny va con Chica, fanno proprio la doppietta Chica non la vedo Foxy, sta per uscire Chica forse qua, esatto, è qua dei bagni Bonny è sempre lì, Foxy mi fa molta paura Ma per ora don't worry Uh, Bonny è qua in camp 5 Chica è qua che ha dei bagni E io inizio a sentire suoni Uh, Foxy è troppo vicino Anche Bonny sinceramente Uh, ok no, ho sentito dei passi per quello chiuso Allora, voi due No, sta venendo anche Bonny Vediamo se lo vediamo Che bel gioco di parole Sento una musichetta strana Oh, bellissima, buongiorno Vuole il caffettino, offre lei o io? Qua Foxy è scappato, perfetto Ecco appunto E anche Bonny arriva 2 in 1 Perfetto ragazzi Chica non è più qua Quindi possiamo aprire tranquillamente la porta E neanche Bonny Sembra qua Benissimo Sento passi Da sinistra Ma chiudo anche a destra un attimo Per capire da dove arrivano Direi che arrivano da sinistra Allora, sono le 4 del mattina E ho il 33% Ce la dobbiamo fare Meglio chiudere Ok, ho sentito Foxy Sentite la sua bellissima voce Chica non è più qua No, mi sa che qua c'è qualcuno Non ho visto chi Ma mi sa che era Freddy 17% e 5 del mattino Dobbiamo sopravvivere ragazzi Chiudiamo Andiamo anche qua No, no, no ragazzi Non va bene Ho entrambe le porte chiuse Due Spegniti luce Bonny Te devi stare fermo lì Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Let's go ragazzi Let's go Che ansia Ho il cuore a mille E anche oggi il premio Ce lo ritiriamo dopo tanto Che bei ricordi Vediamo cosa troviamo Una Fuzzbar Molto buona Mangiamocela Continuiamo E vediamo il nostro Spring Ciao bellissimo Come stai? Fai ciao ciao con la manina Come un tempo Sempre il solito Spring Perfetto Dopo aver fatto FNAF 1 Direi di fare FNAF 2 Ed ecco qua La nostra vecchia pizzeria Qua il telefono Non lo posso mettere giù Mannaggia E qua mi ero dimenticato Dell'esistenza Del carry on No così non va bene Io odio il carry on Ok c'è Mangon lì Intanto qua gli animatronics Se ne stanno già andando in giro Io in stanotte controllo solo qua A lato E davanti No no Foxy serve la luce Per Foxy serve la luce Benissimo Ciao bello Na 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 Ah hai Ciao buongiorno Vai mio bambino brutto No 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 Bonny 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 Ma perché da davanti Ma vieni dall'event Che sei più simpatico Ah no ok Andava nell'event adesso Forse qua Vai La luce per il bro Sono i due Ecco Eccolo bonny Ciao bellissimo Che occhioni grandi Non farmi del male per favore Oddio Mangol Mangol Come ti chiami Ok Ho sentito dei rumori nell'event Per quello Mi sono messa la maschera Che brutta che sei Mangol Tutta distrutta Chi ti ha fatto questo male Ah Foxy Sempre col birichino eh Nelle 4 del mattina Io mi metto un attimo la maschera Che non si sa mai Ecco infatti va via il bambino Anche Freddy Perfetto Due in uno Ok C'è Mangol Ciao bellezza Guardate lì Vai da chicco Per avere quei trucchi Te vai via Che ti basta un po' di luce Scompari Ah hai paura della luce eh Almeno non devi pagare la bolletta Lui si piazza sempre lì davanti Fa però il tranquillone Ok Sento quel bambino Orrendo Che fa rumori E fa Ah Ecco fa così il bambino Intanto Oh Perfetto Stanotte l'abbiamo finita Sinceramente è stata meno ansiolitica Dell'altra Non so neanche io come E abbiamo il nostro solito premio Girano 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 E vediamo cosa troviamo E Uuuu Stavolta è un bel premione Cos'è un robottino Molto bello Più o meno bello In realtà è orrendo Perfetto Direi di continuare Perciò direi di andare a fare Questa part and service Di Freddy Ok perfetto Qua abbiamo Una monetina Perfetto Yeah Una cassetta Ok devo prendere Il Cappello Sono le tagliatelle Di nonna Bina No non me l'aspettavo Questa Ok perfetto Adesso sappiamo cosa fare Boom Preso Lo dovrei buttare Nel cestino Direi Cos'è il bow tie Mi sa che è Questo Perfetto Così Non doveva toccarlo Il coso in mezzo Allora non ho ben capito Ma penso che io Devo togliere Questo coso Quando va via Il braccio Ok così Devo premere Col pulsante Ok così Io rimetto sempre La stessa Vediamo se va bene No Ok Speriamo Oh perfetto Funziona Perfettamente Ah ok Si era il naso Pensavo mi facesse un jumpscare Cosa devo fare Ah ok Finito così Molto semplice Sinceramente Sono morto solo una volta Tanta roba E adesso Giriamo il cosetto Un regalo E vediamo cosa troviamo Che figo Il peluche di Chi è Plush baby Circus baby Come si chiama Bellissimo Intanto qua mi sembra Che ci sia glitch boni Che si sta avvicinando Sempre di più E direi di andare a fare Una night of terror Ovvero Circus baby Perché abbiamo appena trovato Il suo peluche Com'è che si chiude la door Così Ok E sponata così A caso Mi sa che quando ci vedo Devo chiudere la porta Così Ok Non mi do male Ok siamo salvi Che devi guardare di qua Fatti cavoli tuoi Non guardare di qua Monella Sei bellissima No no Non sei proprio bella Fai paura Perfetto Sono le 3 del mattino Questa notte è molto veloce Però anche ansiogena Chiudi 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 Che poi qua ci sono i plush Che iniziano a impazzire Monetina Yeah Adesso guarderà Perfetto Non mi doveva vedere Stavano per esplodere Stai così un'altra monetina Prendila 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 Chiudi Perché non si chiude Perché non si chiude Chiuditi 5 del mattino Questa l'abbiamo finita ormai Dai Ezzo raga Chiudiamo No non così Però è molto semplice Basta fare apre e chiudi Quando ti vede Chiudi E rega è fatta Ecco appunto Facilissima Però 6 del mattino Let's go Yeah Anche qua abbiamo il premio giornaliero Ma da oggi Un botto di livelli abbiamo fatto Cos'abbiamo qua Una Pirate Blunt Bear Di Foxy Foxy è bellissima Quindi anche questa è bellissima Direi oggi basta con i livelli E andiamo a vedere Un po' il price counter Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa Di nuovo Mi sa il ventilatore Che è nuovo Guarda qua che bello Ho sempre sognato Di avere un ventilatore Però non è che ce ne facciamo molto Quindi Lanciamolo Madonna Che forza che ho Io voglio l'action figure di Chica Perché è bellissima Chica Mangiamocela perché è buonissima Il personaggio si strozza Ma va bene così Ah eccolo L'ho ritrovato il ventilatore Che lancia Madonna Michael Jordan Direi che questo video può finire qua Però che il ritorno di Five Nights at Freddy's Help Wanted Vi sia piaciuto E anche che l'aggiunta della webcam Vi sia piaciuta Così potete vedere Come prendo gli infarti Durante i video Vedremo il prossimo episodio Magari la prossima settimana Se andrà a finire Allo stesso modo Gio Caccini vi saluto Ovviamente Ovviamente iscrivetevi Like con campanellina Ovviamente Ovviamente lasciate like Iscrivetevi E mettete un like Con la campanellina Ovviamente Iscrivetevi Attivate la campanellina E lasciate like al video E noi ci vediamo Il prossimo lunedì Con un nuovo video Gio Caccini Gio Caccini Gio Caccini Gio Caccini Gio Caccini